Grazie a tutti. Russolo e lancia delle pesanti accuse. Ci troviamo nella sede del Partito Democratico a Portogolano in via Cavour con Antonio Bertoncello. Bertoncello, candidato sindaco del centro-sinistra chiaramente per le elezioni comunali del 2010. Salvate il teatro Russolo, verrebbe voglia di dire, parafrasando anche il titolo di un celebre film. Ma diciamo che non c'è il rischio di chiudere il teatro Russolo. Il teatro Russolo è un teatro che dopo tanti anni siamo riusciti a realizzare, che ha uno straordinario successo e che deve trovare, ha oggi il suo equilibrio economico, in avanti lo deve trovare con un intervento anche della Regione Veneto. La Regione Veneto ha parecchie leggi che utilizza per finanziare altri teatri nel Veneto. A Portoguaro non ha ancora avuto l'onore di darci nulla. Noi abbiamo chiesto al vicepresidente consigliere Marchese di preparare degli emendamenti alla finanziaria regionale per fare in modo che anche il teatro di Portoguaro venga finanziato così come quello di Adria, quello di Cavalze, quello di Vicenza e come tutti i teatri. Io dico che dovrebbe la Regione Veneto approfittare del fatto che a Presidente della Commissione Cultura c'è Daniele Stival e che il dirigente della Cultura e Angelo Tabbro, che sono di Portoguaro, che conoscono i problemi di Portoguaro, hanno la possibilità, dico la Regione, di avere tutti gli elementi per giustificare i contributi che possono dare, non solo al teatro e alla gestione del teatro come fanno dappertutto, ma anche per finanziare la Scuola di Musica che ha 171 anni, che è l'occhiello del Comune di Portoguaro.